La musica, quella popolare salentina, ispiratrice e protagonista nei primi film Pizzicata e Sanguevivo, veicolo della riscoperta e valorizzazione dell'identità del territorio. La musica che non solo accompagna ma si fa racconto invece nei lavori successivi, quelli della collaborazione con musicisti e compositori raffinati da Officina Zoe a Gabriele Rampino. E il tema della chiacchierata in una corte nel cuore storico di Lecce tra il regista Edoardo Winsper, addetti ai lavori e chi a causa di disabilità dei film fruisce soprattutto a livello uditivo. Un incontro quindi sull'importanza della percezione non visiva per la valutazione dell'opera cinematografica, quindi non soltanto sulla colonna sonora normalmente intesa ma anche sulla melodia delle parole, dei dialoghi, delle parti non strettamente musicali. Per me la musica è importante anche quando non c'è musica in un film perché il cinema è il ritmo e anche quando la colonna sonora è data dall'ambiente, dal dialogo, dal dagli effetti. Anche quella è una sorta di colonna sonora. L'incontro in collaborazione con la rassegna Tullia Incontra è evento collaterale dell'edizione 2014 del Locomotive Jazz Festival. Edoardo in questa fase è venuto volentieri all'interno del Locomotive proprio perché crediamo che fondamentalmente il festival non debba essere solo un festival di musica ma anche aprire ad altre arti come quella anche del cinema.